Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Lino Banfi è rivestito di un dolore insopportabile. La perdita in famiglia ha devastato i cuori di tutti Andare avanti è difficile e il suo lutto commuove il web.E' un ciclo che continua da secoli, morte e vita si susseguono Lino Banfi ne è consapevole e è per questo che ha voluto accogliere con serenità l'idea di non poter più dividere la vita con l'unico amore della sua vita Una vita solida nonostante i tanti film leggeri con protagonista delle pin-up di una bellezza accecante Un attore rigoroso che ha ben distinto la vita sotto i riflettori da quella viva e serena familiare. Dopo molti anni e due figli splendidi, Lino ha dovuto dire addio alla moglie La signora Lucia Zagaria è scomparsa dopo una lunga malattia. Soffriva di Alzheimer ma un brutto tumore l'ha portata alla fine In molte trasmissioni dove è stato ospite il bravissimo attore pugliese ha raccontato una vita splendida insieme alla moglie Un forte legame che non è mai venuto meno e una complicità fino alla morte Alessandro Cecchi Paoni è rimasto spiazzato dal comportamento dignitoso dell'artista di Bari, ha scritto di suo pugno un elogio mettendo in risalto la sua umanità carica di dolore rassegnato ma positivo Sul settimanale dove scrive, il divulgatore scientifico ha descritto l'amore empatico e reale vissuto accanto alla donna con cui ha realizzato il grande progetto di vita coniugale La sofferenza è stata gestita in modo elegante.Anche il Papa Bergoglio ha voluto far sentire la sua vicinanza a Banfi con un delicato messaggio di speranza È accaduto un fatto simile, solo Pasquale Zagaria, vero nome dell'attore, è riuscito nell'intento Quando si raggiunge una veneranda i tagli ostacoli della vita diventano insormontabili, nonostante tutto Lino Banfi non si è mai allontanato dalla moglie malata accudendola quotidianamente Accanto anche i figli e soprattutto Rosanna che nel frattempo si è esibita anche nei vari balletti sulla pista dello show Ballando con le stelle Ha inorgoglito ogni volta con amore la sua amatissima madre.Poi all'improvviso la scoperta della dipartita, quell'attimo che ai nessuno vorrebbe attraversare a necessario perché si compia il ciclo della vita e per chi crede l'eternità Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti